Ciao, sono Francesca De Michelis e sono una ricercatrice del Politecnico di Torino. Mi occupo di Ingegneria dei Processi Sostenibili e quest'anno faccio parte della giuria all'edizione del 2022 FameLab. Se ti piacciono la ricerca e la scienza, non esitare, vieni al FameLab, raccontaci e condividi con noi la tua ricerca, la tua passione e il tuo entusiasmo. Al FameLab avrai l'occasione di raccontare ad un pubblico ampio ed eterogeneo la tua ricerca in soli tre minuti. Dovrai essere dunque efficace, coinvolgente, diretto, comunicativo, al fine di far comprendere a tutti noi il vero senso della tua ricerca e la passione tua che lo supporta. Ti aspettiamo dunque l'11 maggio al FameLab di Torino, al Teatro Cubo, in via Pallavicini, 35. Non puoi mancare! Ciao! 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 Grazie a tutti.